I don't see Il giorno in cui sta per insediarsi un nuovo governo con un nuovo Presidente del Consiglio è chiaro che abbiamo tante riflessioni da fare che non sono di natura politica tantomeno partitica ma che sono di natura evangelica credo attraverso le quali vogliamo dare una lettura anche della festa che domenica celebreremo insieme che è quella del corpo e sangue del Signore che indica il modo con cui Gesù ha scelto di essere presente nelle comunità cristiane per fare comunione e generare comunione. Caro Dorenato da dove partiamo? Partiamo la luce proprio il Vangelo il riferimento al Corpus Domini parlavamo prima di andare in onda di quanto aveva detto Papa Francesco a Molfetta magari poi lo riprendiamo. Tu dicevi che siamo nel giorno del giuramento del nuovo governo e per restare sul Vangelo io dico purtroppo qualcuno ha già giurato non il primo giugno ma il 24 febbraio in piazza Milano dicendo io giuro su questo sacro Vangelo di rispettare i principi. Questo secondo me è molto grave perché se poi come leggiamo alcune cose io dico ma come si fa a conciliare con il Vangelo poi ti spiego perché ho in mano questa bottiglietta. Quando saremo il governo daremo mano libera ai carabinieri e alla polizia per ripulire le città sarà fatta una sorta di pulizia etnica. Io ho visto cosa vuol dire la pulizia etnica a Sarajevo e allora non si scherza con queste cose, non si scherza con la dignità delle persone. Da quelle qui da noi che hanno problemi di arrivare a fine mese eccetera ma non si può raccogliere il malcontento e incanalarlo in una rabbia come se le persone che vengono a messa la domenica magari diminuiscono anche da te. La colpa è degli estri comunitari. Ci sarà la processione nella mia parrocchia domenica ma forse anche nella tua per il Corpus Domini. Se quelli che chiacchiereranno sarà colpa anche quelli degli extracomunitari. Ti leggo una cosa scritta dai Vescovi. Prendiamo atto che vari processi elettorali denotano un certo progresso democratico. Tuttavia guardiamo con preoccupazione il rapido avanzamento di diverse forme di regressione autoritaria per via democratica che sfociano alcuni casi in regime di orientamento neopopulista. Questo conferma che non basta una democrazia puramente formale fondata sulla trasparenza dei processi elettorali ma che è necessaria una democrazia partecipativa sostenuta dalla promozione e dal rispetto dei diritti umani. Una democrazia senza valori come queste ricordate si trasforma facilmente in una dittatura e finisce col tradire il popolo. Chi l'ha detto? Quando l'ha detto? L'hanno detto i Vescovi dell'America Latina ad Apparecida nel maggio 2007, 11 anni fa. Eddo Renato, gli argomenti sono tanti, sono complicati. Come dice un grande storico, filosofo, direi un intellettuale raffinato, se il problema è complicato l'analisi non può essere rapida, deve essere altrettanto fatta di passaggi intermedi. Quindi credo che noi viviamo un tempo storico nel quale stiamo facendo i passaggi e dobbiamo capire da che parte vanno tenendo ben chiari quali sono almeno per noi come comunità cristiana i nostri valori, i nostri ideali, che non sono mercanteggiabili, che non sono in vendita ma che sono alla base delle nostre scelte di coerenza, almeno credo e spero per tanti di noi o forse immagino per tutti noi. È evidente che c'è un po' di confusione, è evidente che c'è poca formazione, è evidente che c'è in generale qualcosa che va un pochettino ricostruito. Sono i mesi di maggio, sono stati i mesi delle prime comunioni, forse lavorare sulla comunione più che sulla divisione, lavorare su quello che ci unisce piuttosto che su quello che ci divide, come diceva già Giovanni XXIII, forse possono essere i primi passi per rieducare all'ABC, a partire dai bambini, a quelli che sono i valori che sono stati il tessuto anche sociale del nostro paese, della nostra comunità. Caro Dorenato, guardiamo con fiducia e con speranza comunque al futuro, sapendo che il presente è complicato, ognuno chiaramente che ci ascolta sarà d'accordo, qualcuno no, perché magari ha una sua visione politica, una sua visione anche europea o non europea, c'è la libertà di pensiero ma la libertà va comunque, come diceva sempre Sartre, educata con i valori. Ecco, bisogna chiedersi quali sono i valori che ci guidano. In base ai valori uno fa le sue scelte, no? Per noi credo il valore fondamentale è quello di Gesù che ci dice amatevi gli uni gli altri e gareggiate nello stimarvi a vicenda. Sì, lo dicevamo prima, tra le mani tu, il testo dell'Omelia di Papa Francesco Molfetta, io c'ero ma non è questa la cosa importante, l'anniversario della morte di Don Tonino 25 anni fa, e lui diceva, al limite lo puoi leggere tu, si potrebbe esporre... Come avviso fuori da ogni chiesa questa frase, dopo la messa non si vive più per se stessi ma per gli altri. E credo che sia un bel modo di vivere la nostra fede e anche la festa del Corpus Domini. Tra l'altro Papa Francesco va a vivere la festa del Corpus Domini a Ostia, un luogo non proprio tranquillo, un luogo simbolo anche di corruzione, di emarginazione, e allora di emarginazione per alcune persone, di orgoglio mafioso per altri. Il fatto che Papa Francesco vada lì, credo sia un invito anche per noi, come dire, a non fermarci ai grandi ostensori dorati che abbiamo nelle nostre parrocchie, ma a riconoscere, a portare davvero, come dovrebbe essere il senso della processione, portare Gesù nelle nostre strade. E Papa Francesco in quell'Omelia disse una cosa molto bella citando Don Tonino. Don Tonino sognava una chiesa affamata di Gesù, e quindi diciamo, non di solo pane, vuole essere un'occasione per rimettere al centro Gesù. Una chiesa intollerante ad ogni mondanità, una chiesa che sa scorgere il corpo di Cristo nei tabernacoli scomodi della miseria, della sofferenza, della solitudine. Perché, diceva sempre Don Tonino e dell'Omelia di Papa Francesco, l'Eucarestia non sopporta la sedentarietà e senza alzarsi da tavola resta un sacramento incompiuto. E abbiamo bisogno di testimoni, di amici che ci aiutino prendendoci per mano ad essere ancora voci profetiche in una società che si sta addormentando, in una società che si sta abituando alla lotta a chi grida di più, a chi è più cattivo, a chi è più aggressivo. Caro Dorenato, ripartiamo dalle scuole, ripartiamo da tante cose, ripartiamo da noi stessi, insomma, io penso che abbiamo tutti bisogno di un attimo di silenzio interiore, di verifica di se stessi, di capacità di accettare di stare accanto a qualcuno e di sperare e credere che alcune cose che sono già avvenute nella storia non si ripetano. Leggevo proprio oggi che, per dire, la zona del centro Africa, già sappiamo, che ha tanti diamanti, è totalmente in ginocchio di fronte alla Russia che gli vende armi in cambio di prendersi questi diamanti che certamente in un commercio hanno più valore e più potenza. Caro Dorenato, sembra che la dinamica del mondo non cambia mai, che la logica del pensiero non cambia mai, siamo qui per dire a noi stessi, prima di tutto, a chi vuole camminare con noi, lasciando aperte anche le critiche, se qualcuno ce li ha nei nostri confronti, che a noi piace il Vangelo, che a noi piace il Vangelo, la linea di pensiero di Gesù, i fatti, i gesti di Gesù, che sono quelli che in qualche modo Papa Francesco, che, ahimè, non è neanche così tanto gradito nell'ambiente proprio cristiano, ci sta ricordando con estrema forza, con estrema libertà, proprio da uomo libero, schiena dritta, che va diretto al problema e lo affronta come? Standoci in mezzo, accogliendo, abbracciando, condividendo, spezzando il pane, cioè facendo tutti quei gesti che tu già conoscevi essere propri di Don Tonino, ma sappiamo Don Tonino quanto fosse gradito anche quando andava alle riunioni ufficiali. Sì, tra l'altro, per ritornare a quello che dicevi tu, Papa Francesco, non dimentichiamo che chi adesso avrà questo ruolo di Vice Presidente del Consiglio, si è fatto fotografare qualche tempo fa con la maglietta il mio Papa è Benedetto, questo ti dice la comunione con la Chiesa, eccetera, eccetera. Io ho in mano questa bottiglia, te lo dico alla fine, prima che Marco ci spenga la telecamera, ma credo che sia giusto farlo, non l'ho fatto da solo la volta scorsa, un po' per pudore, ma volevo condividere con te anche la gioia, tra le notizie belle, c'è che il nostro amico, Luis Sacco, patriarca di Bagdad, è stato nominato cardinale. Non è tanto l'orgoglio di dire ah, sono amico di un cardinale, poi c'è anche corti, facciamole, no, no, non è questione di chi ha il rosso più sgargiante, è che è davvero un bel segno di speranza per quella gente, per chi ha vissuto la guerra, per chi è perseguitato, è anche una bella voce all'interno della Chiesa, e sapere che quando si troveranno i cardinali ci sarà anche la voce di chi io ho visto insieme alla gente, in mezzo ai rifugiati, ai profughi, con Saddam, con la presenza americana, con una storia di guerra e di sofferenza, ci dà speranze, quindi speriamo di riabbracciarlo presto, Luissaco. E questa è per ricordarti, io ho stampato qui ma non ho il tempo, per esempio alcune tappe delle leggi razziali in Italia, 80 anni fa vennero approvate le leggi razziali, in Germania piano piano, per esempio, cominciarono a far sì che i bambini che avevano ebrei avevano accesso all'uso dei trasporti pubblici solo se la loro scuola distava più di 5 chilometri, se erano meno di 5 chilometri la facevano a piedi. Il primo aprile, non era uno scherzo, del 33, gli insegnanti ebrei furono esclusi dall'insegnamento delle scuole pubbliche e sempre ad aprile i bambini non ariani, a loro fu vietato di giocare con i bambini ariani e mi diceva qualcuno che il primo passo fu negare il latte ai bambini ebrei nelle scuole. Non dimentichiamo, prima di salutarci, che qui siamo vicini a Domodossola, in Svizzera, qualche decennio fa, i lavoratori italiani non potevano entrare con i bambini, servivano solo le loro braccia, non i loro affetti, i bambini dovevano stare fuori. Da lì nasce poi tutto il lavoro del treno dei bambini, di chi accoglie i figli dei migranti italiani perché servivano, ripeto, le braccia, un po' come forse a noi. Servono nelle nostre case a pulire magari e ad accudire i nostri anziani, ma non devono avere dignità. Questo latte ci ricorda che la storia ha scritto pagine nere. Noi con la comunione, col Vangelo, vogliamo non perdere la speranza di scrivere pagine più belle. Sì, ciascuno a casa farà le sue riflessioni, accoglierà come queste parole, come confronto, come possibilità di verifica anche interiore. Io ne approfitto per salutare i nostri amici da casa. Dorenato è il primo giugno, venerdì. Molti di noi oggi sono andati come parroci a portare la comunione alle persone sole, alle persone anziane, anche chi negli ospedali. Ecco, io questa mattina sono andato e le mie signore che mi aspettano, tutte signorine perché sono... attendono questo giorno, hanno da 93 anni a 103, insomma, vedere con quale delicatezza ancora. Preparano il loro banchetto, mettono il bicchiere dell'acqua benedetta, mettono l'immagine della Madonna, mettono la luce, mettono la busta per l'offerta, per accendere la candela in chiesa. E soprattutto, come pregano volentieri, forse abbiamo bisogno, come diceva il Vangelo di oggi, di sapere che Gesù dice, prima di tutto, ai venditori nel Tempio, che ribalta quelle cose lì che non vanno bene, perché si deve andare in un'altra direzione. E poi dice, lo strumento della preghiera rimane efficace perché altrimenti si corre il rischio di gareggiare per il potere e non per il servizio. Il potere più alto, specie nella politica, è servire, diceva Paolo VI. Ci auguriamo, lo auguriamo al nuovo governo, di lavorare per il bene comune, ce lo auguriamo a ciascuno di noi, anche alla luce del corpo e sangue del Signore. A te il saluto finale, Don Renato. E così sia, come hai detto tu. Ci vediamo la settimana prossima. Buon inizio del mese di giugno. Arrivederci.